Amici, ecco a voi la prossima lavorazione del Gotham Garage. Non ci credo. Ebbene sì. Basterà apporre qualche ghirigoro in stile Gotham Garage sul cesto della mongolfiera e in cambio avremo... Sorprendici, dai. Una Ford Bronco dell'81. Scambio alla pari. Non facciamo queste cose. In che senso? Abbiamo fatto di tutto. Non decoro mica torte qui. Di chi è stata l'idea dell'idromassaggio nella macchina? Fu una tua trovata. E il pulmino Volkswagen sul pontone dove lo mettiamo? Abbiamo lavorato perfino a una sala hobby. Sapevo che avrebbero posto resistenza all'inizio ma adorano questo genere di operazioni. Ci metteranno un po' per attivarsi mentalmente, avere un'illuminazione e poi alla fine vorranno prendersi tutto il merito. Beh, allora... Grazie. Grazie. Grazie.